Banca Generali mette i bisogni dei clienti al centro del proprio approccio ai servizi finanziari. Il modello di business offre vari prodotti finanziari, inclusi quelli delle società terze, secondo il modello di architettura aperta. I servizi finanziari e i prodotti proposti coprono fondi comuni di investimento, gestioni di portafoglio, conti correnti e risparmio amministrato, prodotti previdenziali e assicurativi. I nostri promotori finanziari offriranno consulenza qualificata per orientarvi nelle scelte.